Il 25 aprile non è un ritmo, è un dovere per l'ampio e per tutti i suoi cittadini. Non dimenticare e dare in memoria alle nuove generazioni. La festa della liberazione viene vissuta con questo spirito. A Catanzaro come in altre mille piazze d'Italia le celebrazioni tendono a coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi. Il trofeo della liberazione nel parco scuola Pietro Mennea organizzato dall'UISPI, l'Unione Italiana Sport per Tutti, ha avuto proprio il senso di mettere insieme più generazioni. In nome dello sport e di valori che costituiscono i pilastri della vita civile e sociale del nostro tempo. Per noi sportivi, per noi atleti, al di là di quelli che sono i valori agonistici, sono i più importanti i valori dal punto di vista umano. Quindi è anche una liberazione, consordire del corpo e dello spirito. È una partecipazione che non è nel segno dell'agonismo esasperato, ma proprio nel senso di stare assieme, di socializzare. In tutta Italia il 25 aprile viene organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani. Nel documento dell'AMPI per questo 68esimo anno dalla liberazione si legge questa festa è soprattutto un monito contro ogni forma di degenerazione morale e politica e contro ogni rischio di populismo e autoritarismo.